Possiamo trattare dei temi che poi sono importanti per il nostro paese. Tappa a Fano per l'onorevole Roberto Fico, l'ex presidente della Camera dei Deputati, è stato ospitato nella sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Fano. Un incontro nel quale si è parlato di autonomia differenziata, una riforma che si è attuata, scrivono i 5 Stelle, creerebbe effetti sociali estremamente negativi. In merito all'autonomia differenziata, l'onorevole Roberto Fico ha commentato così ai microfoni di Fano TV. Punto di vista assolutamente negativo, soprattutto perché ci troviamo nelle regioni Marche, noi possiamo dire con assoluta certezza che da questo provvedimento dell'autonomia differenziata le Marche saranno una delle regioni maggiormente danneggiate perché è una regione più piccola. Io da questo punto di vista ancora non ho sentito una parola dal presidente di questa regione. Quali effetti sociali creerebbe questa nuova riforma? Una divisione maggiore tra ricchi e poveri e tra aree più in difficoltà del paese e tra quelle invece più ricche. Invece noi dobbiamo far sì che la nostra Repubblica sia unita e che il principio di solidarietà e di distribuzione del reddito sia pienamente rispettato. Importanti risvolti anche per quanto riguarda le infrastrutture? Assolutamente sì perché a quel punto non si andrebbe più a fare una reale programmazione nazionale ma magari un'autostrada che si fa in Lombardia non può finire nello stesso punto in Veneto. Siamo all'assurdo. Presenti all'incontro anche Marta Ruggeri, capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle. Il tema è sicuramente un tema di cui si parla poco però è un tema molto importante e soprattutto è un relatore, un relatore d'eccezione come Roberto Fico che ormai tutti conosciamo. Per noi 5 Stelle è un pilastro perché è stato un attivista, è un parlamentare storico. Si parla di autonomia differenziata. Qual è su questo argomento la situazione in Regione Marche? In Regione Marche la situazione è che ho presentato una mozione contro l'autonomia differenziata che è stata protocollata il 9 di gennaio. Dopodiché sono arrivate a giugno altre mozioni firmate dal Partito Democratico. È stata iniziata la discussione a fine giugno però ancora non si è giunti alla votazione perché di seduta in seduta pur essendo messi all'ordine del giorno parte del Partito Democratico e soprattutto la maggioranza tenta di procrastinare la votazione. Secondo me ci sono dei mal di pancia che riguardano soprattutto Fratelli d'Italia che come sappiamo ha una visione politica ben differente rispetto a quella della Lega e quindi evidentemente anche in Regione Marche arriva questa coda però c'è da dire che per rimanere al Governo sono disposti a mandare avanti questa legge che sicuramente creerà per le Marche dei grossi problemi perché come sappiamo siamo stati inseriti anche tra le regioni in transizione quindi sicuramente abbiamo tutto da perdere da una legge di questo tipo.